Quando compriamo un alimento, la prima cosa che dobbiamo guardare è proprio l'elenco degli ingredienti. Lo fai? Sì, a volte. L'elenco degli ingredienti è proprio quello che viene scritto secondo alcune regole, ad esempio gli ingredienti sono riportati tutti in ordine decrescente, quindi decrescente di peso da quello che è maggiormente rappresentato a quello che lo è di meno. E poi incontreremo degli altri ingredienti che invece non hanno proprio scritta la percentuale, quindi li troveremo solamente riportati con il loro nome. Questi in effetti vengono scritti in questo modo perché sono in una quantità proprio minima e quindi anche trascurabile e quindi ne potremo trovare tanti esempi come lo zucchero, il bicarbonato, il sale e le varie tipologie di olio. Sì, ma non si può dormire tanto tranquilli perché io so che ci sono alcuni ingredienti che nell'elenco comunque vengono omessi. È vero, è vero, sei proprio acuto. Ci sono alcuni ingredienti che proprio vengono omessi e quindi non vengono riportati nelle etichette, ma adesso capiremo meglio. D'altra parte Leo è sempre molto curioso e molto attento e quindi non gli spugge niente. Comunque mi sembri proprio l'assistente di Sherlock Holmes. Complimenti! Grazie Watson!